Ilian Turam, grazie intanto della disponibilità, lei è qui a Incroci di Civiltà a Ca' Foscari per presentare Il Pensiero Bianco, libro edito da ADD Editor nel 2021, un libro in cui propone un cambio di sprospettiva e in cui in qualche modo mette in guardia, come diceva già Cimamande Adice, sul pericolo di un'unica storia. E quindi qual è, secondo lei, il pericolo di un'unica storia e perché bisogna cambiare prospettiva sulle cose che leggiamo e che studiamo? Io credo che per ognuno di noi è molto importante capire la complessità della vita, la complessità della sua propria identità, la complessità dell'altro. E per questo bisogna avere discorsi diversi, punti di vista diversi. Se hai soltanto una storia, tu non puoi capire la complessità delle cose. E se hai soltanto un punto di vista, è molto pericoloso. Qui siamo all'università e all'università spesso si parla di merito e di risultati. Però questa richiesta di risultati mette addosso una grossa pressione sociale verso gli studenti. Cosa che credo accada anche, per esempio, per chi fa sport, per gli sportivi come lei. Lei ha dovuto gestire questa pressione sociale, l'ha sentita e come? E come invece si rapporta questa pressione come genitore, rispetto ai suoi due figli, che sono due figli di talento che stanno facendo carriera? Però dipende. Io credo che la cosa importante di dire ai giovani è che loro hanno questo potere di crescere e per crescere bisogna essere aiutati dagli altri. e forse bisogna ricordare ai più giovani che il sbaglio fa parte della vita. Perché tante volte hai una pressione perché hai paura di sbagliare. E io credo che veramente bisogna parlare di questo sbaglio e ancora una volta dire che è una cosa naturale e che quando tu fai una cosa, quando tu provi a diventare più bravi, non è di confronto ad un altro, però è di confronto a te stesso. Tu devi provare a dare il meglio a te stesso e io credo che quando hai questo rapporto già hai meno pressione. Qui da noi in Italia è ancora molto vivo uno stereotipo sullo sportivo, tanto più sul calciatore. Chi fa carriera nel calcio, per esempio, di solito non studia e chi fa carriera nello studio, chi porta avanti lo studio, non fa lo sport. Ecco perché secondo lei è ancora vivo questo stereotipo da noi, come possiamo sconfiggerlo e come possiamo gestire una carriera sportiva portando avanti anche, diciamo così, la propria formazione personale. Io credo che questo pregiudizio viene dalla cultura, diciamo forse la cultura religiosa, perché c'è questa separazione fra il corpo e l'arma, la mente, la mente. Già vedi che già proprio dentro la religione c'è questa idea che bisogna forse accettare che l'arma è molto più importante, è molto più puro che il corpo e che il corpo non è sano. Io credo che viene di queste cose, però sicuramente che se vuoi fare carriera dentro lo sport o dentro un'altra cosa, bisogna passare molto tempo a farlo. È molto difficile avere una carriera di alto livello dentro il mondo del sport se tu non pensi a altre cose. Però non vuol dire che non puoi fare tutti e due, vuol dire che bisogna essere consapevole se vuoi fare, non so, una carriera musicale, tu devi passare tanti tempi a fare la musica, a capire la musica. Vuol dire che il tuo mondo è progettato al 100% sulla musica, vuol dire che c'è meno spazio per altre cose. E' per questo che qualche volta la gente non possono fare tutti e due. Però se vuoi fare lo sport e fare cultura, credo che si può fare. Dipende dalla tua volontà. Ritornando ai temi del suo libro, lei parla del pensiero bianco. In quello che lei definisce il pensiero bianco, quanto è importante il linguaggio, le parole che usiamo? Sicuramente ci sono tante cose che cominciano per le parole che utilizziamo. Il fatto è che già quando tu dici questa persona è bianca, questa persona è nera, bisogna conoscere perché tu dici così. Però è dovuto anche a una classifica dove prima si diceva che ci sono rasse diverse, rasse bianca, nera, gialla, rosso. E questo è rimasto dentro il nostro modo di dire le cose, di pensare le cose. E per questo che dico che il pensiero bianco non è soltanto il fatto che i bianchi pensano così, però anche i nori pensano così. Perché questo pensiero dove hanno creato l'idea che essere bianco è meglio e un'ideologia che ha educato il mondo e questo da secoli. Allora sicuramente bisogna trattare e analizzare le parole che utilizziamo. Io la ringrazio e mi permetto di farle un piccolo regalo, un piccolo omaggio. Mi piace i regali. che è una borraccia della nostra università decorata, la lascio aprire, decorata da un artista qui nella zona. Una borraccia, una bottiglia. Ah, ok, non l'avevo capito. Borraccia? Sì. La borraccia che di solito diamo ai nostri studenti e ci faceva piacere regalare. Questo mi piace. Io sono studente adesso. Bisogna sempre essere studente. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.